Oggi la Chiesa ci fa celebrare la festa di un apostolo, San Bartolomeo. Due notizie su di lui, probabilmente è colui che nel Vangelo di Giovanni compare come Natanaele. Provinente da Cana di Galilea, vicino a Nazareth, viene descritto da Gesù come un israelita senza finzione. Di lui si sa ben poco, gli storici della Chiesa dei primi secoli narrano di suoi viaggi missionari in India, in Etiopia, in Arabia, in Mesopotamia, in Armenia, ma è difficile ricostruire il suo percorso missionario. La tradizione narra del suo martirio avvenuto per scuoiamento. Una delle raffigurazioni più celebri del santo si trova proprio nel giudizio universale realizzato da Michelangelo presso la Cappella Sistina, dove l'artista rappresenta se stesso nella pelle scuoiata di San Bartolomeo, forse a simboleggiare proprio quanto sia stato logorante il lavoro nella Sistina. Nel Vangelo di Giovanni troviamo un episodio che invece vede protagonista Bartolomeo. Si tratta del momento della sua chiamata, del suo incontro con il Maestro. E non a caso è proprio il Vangelo di oggi, il Vangelo che la Chiesa ci offre oggi. Vediamo che Filippo va da Bartolomeo, che nel testo è chiamato appunto Natanaele, e li riferisce che ha trovato il Messia, che si tratta di Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazareth. Ma Natanaele gli risponde così, ma da Nazareth può venire qualcosa di buono? Ogni tanto anche noi forse ci poniamo una domanda simile, ma da sto Dio cosa può venire di buono per me? Cosa me ne viene dal credere in Lui? A credere in Dio c'è solo da guadagnarci, perché vuol dire uscire da se stessi. E smettere di credere soltanto a se stessi, è importante credere in noi stessi, ma non soltanto a noi stessi. È importante avere stima di sé, ma non posso appoggiarmi solo su di me, perché il resto è una persona umana, fallibile. Andando avanti nella lettura del brano, vediamo che Gesù intanto, visto Natanaele che li veniva incontro, gli disse, ecco davvero un'israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò, come mi conosci? Gli rispose Gesù, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di Fichi. Dio ci conosce bene e ci ama. Spesso noi non lo vediamo, non ci facciamo caso, lo ignoriamo, ma Lui ci vede bene. Ci vede anche quando noi non lo vediamo, ci ama anche quando noi non lo consideriamo. Ci pensa anche se noi abbiamo altri pensieri. Dobbiamo soltanto fare il primo passo, aprire la porta, lasciarlo entrare nella nostra vita e scopriremo che Lui da sempre ci cerca, ci ama, ci pensa. Ma sovente Dio non incontra, non incrocia il nostro amore, il nostro pensiero, perché siamo altrove. Perché pensiamo che da Dio non venga nulla di buono per noi stessi. Sottolineo ancora un passaggio, ed è quando Gesù dice di Natanaele, ecco davvero un'israelita in cui non c'è falsità. Natanaele dice ciò che ha nel cuore. Crede che da Nazareth, da un paese insignificante, non possa arrivare il Messia. È uno schietto. Molto probabilmente San Bartolomeo, Natanaele è uno schietto. Mi vengono alla mente quelle persone, giovani e non, che spesso affermano in modo molto spontaneo, che non sanno che farsene di Dio, che è roba da bambini, o per gente vecchia, o debole. Ecco, sei davvero sicuro che Dio non serva a nulla nella tua vita? Sei sicuro che il credere in Dio non porti nulla di buono alla nostra esistenza? Buona giornata.